poche sono le commedie senza innamorati e in quasi tutte l'amore è il motore principale dell'azione l'amore tra un uomo e una donna è per sua natura un combattimento ma allora fulgenzi oggi viene o no già la settimana scorsa non è venuto aveva detto che era malato chissà se era vero era vero voi come fate a saperlo? gli avete chiesto il certificato medico l'amore che si nutre dell'amore è come il barone di Munchausen il quale caduto in uno stagno e sentendosi affondare cercava di tirarsi su sollevandosi per il proprio ciuffo io ti avevo dato cento euro tu mi rubi abbastanza vieni qua che gli amassi ti ammazzo vieni qua ti avevo dato cento euro cento euro in amore ci si può ammazzare e scannare senza nessun motivo tema il vero motivo delle liti amorose è quello che non viene mai pronunciato ma se voi arrivate sempre tardi ma una donna non può preoccuparsi dei ritardi una donna non ha una vita da via e l'uomo no l'uomo può se c'è uno che fa le scenate tra di noi quella siete voi mettete via quella pistola ma quale pistola non mi fate agitare amore significa consegnare se stessi a un altro chi guardandoci potrà dubitare che il nostro sia amore non mi fate agitare non mi fate agitare se stessi a un altro chi guardandoci potrà dubitare se stessi a un altro chi guardandoci potrà dubitare che il nostro sia